Buongiorno ragazzi! Anche oggi come sempre vi porto a vedere degli appartamenti. Ora siamo dentro nel primo, questo lo affittiamo a lungo termine. Andiamo a vedere com'è fatto! Grazie a tutti! Per tutte le informazioni di questo appartamento vi lascio il link in descrizione e ora vi porto a vederne un altro ancora. Ora ci troviamo in un altro appartamento, questo è un studio che affittiamo solamente il periodo invernale. Andiamo a vedere anche questo com'è fatto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Qualsiasi domanda vogliate farmi scrivetemi la mia e-mail. Andiamo a vederne un'altra ora. Ed eccoci finalmente nell'ultima proprietà che vi farò vedere oggi. È un bungalow con giardino privato, anche questo lo affittiamo solamente il periodo invernale. Vi faccio vedere com'è fatto! Andiamo a vederne un'altra ora. Andiamo a vederne un'altra ora. Grazie a tutti. Bene signori, finito il tour, anche oggi spero vi sia piaciuto, spero soprattutto che sia stato utile per alcuni di voi, mi raccomando iscrivetevi al canale e iscrivetevi all'email. Ciao ciao!